Ore cruciali per la crisi greca. La Banca Centrale Europea ha detto che manterrà stabile la fornitura di liquidità di emergenza alle banche greche per conservare la stabilità finanziaria. Intanto il Parlamento ha deciso di approvare il referendum chiesto dal Premier Tsipras per chiedere ai greci se sono dentro o fuori dall'Europa. Il ministro dell'economia greco Baropakis dice che i capi del governo devono agire ed anche la Germania e dice che la Grecia è contraria al controllo dei capitali.